Un'altra proprietà appariscente da Si presenta una grande opportunità perché questa grandiosa casa diventi tua Comprende soggiorno intimo che offre calore e comodità alla famiglia Stupenda cucina a vista con spazio per muoversi Una zona all'aperto che si addice alle caratteristiche interni della casa Chiamate ora per fissare un appuntamento